Per la prima volta, il 25 novembre 2015, il Centro Asteria ha proposto un incontro interreligioso. Rappresentanti dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam di Milano affrontano il tema della relazione tra giustizia, misericordia, verità, anche alla luce degli ultimi avvenimenti tragici, all'auditorio Mahler sono confluiti più di 800 giovani in ricerca dei valori portanti per la loro vita, numerosi e profondi gli interrogativi posti ai relatori, con riferimenti chiari e concreti al presente e al passato. Nessuno può sostenere il terrore e la violenza nel nome di Dio, ma ogni credente è invitato a scoprire come misericordia è l'atto unico e supremo che unisce Dio all'uomo, la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita.